Ciao, sono Maiko Caggiano e sono la terza generazione di un'azienda storica del marmo, gli artigiani del marmo. Grazie alla storia di mio nonno e al presente di mio padre, siamo un'azienda che quasi fa 60 anni l'anno prossimo. E realizziamo praticamente di tutto, perché lavoriamo il marmo, il granito, l'agglomerato di quarzo, la ceramica. E se tu mi chiedi qualcosa in marmo, veramente noi possiamo realizzare dalla A alla Z, che vuol dire, possiamo fare dal piccolo gioiello all'anello o a una cucina d'arredamento, a un tavolo che sia un tavolino piccolo, che sia un tavolo grande. Grazie ai macchinari possiamo veramente realizzare di tutto e di più. Noi siamo entrati negli ultimi anni nei settori navali e facciamo contrat navale soprattutto sull'arredamento del bagno, della cabina del bagno. Noi quando prendiamo un contrat navale sono tipo 600 cabine e noi realizziamo dal pavimento al piatto doccia a tutta la parete di rivestimento e al top da bagno. Però si chiama contrat perché sono 600 cabine da fare tutte uguali. Quindi parte una serie di produzione, tutti i macchinari, tutte le macchine a controllo numerico, tutte in linea per fare sempre le stesse cose, che ti porta via due o tre mesi, però sono grandi soddisfazioni. Perché tu sai che stai facendo una nave da crociera, che ogni settimana ci passano su 5.000 persone e usano quello che fai tu. ed è molto bello. Noi la prima CMS l'abbiamo presa nel 2000. Quindi si sta parlando di 22 anni fa e ci è cambiato completamente tutto il lavoro. Perché riescono, riesce a fare una cucina da 3 metri per 60 con doppio foro, tutta tagliata in un quarto d'ora, con unica macchina. Vengo qua da quando ho 3-4 anni. Mia mamma mi portava qua, io vedevo già la realtà di marmo, io giocavo in ufficio con i campioni e facevo i soldi finti per giocare così e l'ho sempre fatto da quando sono piccolo. Quando ho iniziato a lavorare qua avevo 16 anni, ho finito la prima superiore e mi ricordo che per i primi anni facevo praticamente il jolly. Qualsiasi cosa, qualsiasi persona che mi chiamava, io correvo, facevo, disfavo. Adesso, da ormai 12 anni, mi sono specializzato sulle tre macchine a controllo che abbiamo, le due waterjet, una a tre assi, una a cinque assi e il controllo numerico a cinque assi. Siamo aperti dal 1963, grazie alla passione di mio nonno Michele e la passione di mio padre Giuseppe Caggiano, che ha dato a me e mia sorella una voglia di crescere in questa azienda. E dico grazie a loro perché ci hanno dato la forza veramente di, anche in un ambiente difficile, duro, di volere fare qualcosa e portare avanti la nostra azienda di famiglia. Grazie a tutti.